Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi faccio questo video brevissimo per informarvi che ho intenzione alla fine dell'estate di fare un video in cui rispondere a tutte le domande, tutti i dubbi che mi vengono spesso posti via mail riguardo allo studio dei tarocchi. Io ricevo praticamente tutti i giorni o quasi delle mail o dei messaggi su facebook, su instagram in cui mi viene chiesto di rispondere a qualche dubbio relativo allo studio dei tarocchi. Io di solito rispondo però siccome cominciano a essere tante queste domande ho pensato di fare un video e di rispondere a tutti perché in questo modo magari posso essere utile anche ad altre persone non solo alla persona che mi fa la domanda. Quindi ho pensato di raccogliere un pochino di queste domande e poi a fine estate di fare un video risposta. Quindi se avete dei dubbi, se avete delle domande da farmi sui tarocchi, sullo studio dei tarocchi, anche semplicemente delle curiosità sui tarocchi, scrivetemele sotto nei commenti perché io le raggruppo tutte quante e poi farò questo video in cui risponderò ai dubbi. Però vi dico subito che non faccio consulti, quindi non mi chiedete voglio sapere se il mio ex, la mia ex mi ricontatterà o se ci rimetteremo insieme, tutte queste cose perché non sarà un video in cui rispondo a domande tipo consulto ma domande sullo studio dei tarocchi oppure sui tarocchi in generale. Ma non faccio consulti, quindi questo ve lo dico così non ci sono fraintendimenti. In ogni caso, qualsiasi curiosità voi abbiate potete chiedermela e io poi farò questo video risposta. Per adesso ho radunato una decina di domande, poi penso che da qui a fine estate ne riceverò delle altre, se fossero troppe ovviamente farò più di un video perché non posso fare 50 domande tutte nello stesso video. Quindi vediamo quante saranno alla fine e poi ovviamente deciderò se fare tutto in un video solo oppure se dividerlo. In ogni caso, se è una cosa che poi continuerà nel tempo, diventerà magari una sorta di rubrica mensile della posta dei tarocchi, non lo so, chiamiamola come volete, in cui poi risponderò alle domande. Se continueranno a essercene tante, mi rendo conto che comunque è una cosa che diventa cospicua, allora poi penserò magari a fare una serie di video tutti dedicati. Però per il momento ne è previsto uno e quindi potete da qui alla fine dell'estate, quindi diciamo più o meno fino a metà settembre, insomma quel periodo lì, chiedermi tutto quello che vi viene in mente, scrivermelo sotto oppure nella pagina Facebook, nella pagina Instagram, insomma trovate comunque tutti i miei contatti giù in infobox. Io mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale, a maggior ragione se vi interessa questo video così almeno siete sicuri che non ve lo perdete, mettete un like di incoraggiamento e io come al solito vi mando un bacio enorme.